un nuovo video allora nel video di oggi andiamo a disegnare una ghirlanda in modo semplice con un albero di natale andiamo a disegnare due elementi una ghirlanda e un albero di natale in modo molto semplice e per questo tutorial andiamo a utilizzare illustrator andiamo ad aprire illustrator e io mi vado a creare un file a 4 ecco qui vado qua nelle forme vado a prendermi lo strumento ellisse premo shift e mi vado a creare un cerchio shift e alt mi tolgo il riempimento e qui me lo metto in nero ora mi ingrandisco la visuale vado qui nello strumento ellisse e vado a crearmi un cerchio premendo shift vado a mettere il riempimento e qui vado nel campione mi vado a mettere il verde per fare una ghirlanda questo cerchio vado a fare oggetto ordina porta in primo piano me lo vado a mettere qua in modo che il puntino vedete che c'è qui del cerchio vado a mettersi qui vado a selezionare impicciolisco la visuale vado a selezionare e metto centrato ok mi metto in modo che riesco a muovermi bene sul foglio ora vado a prendere vedete questo puntino qua premo alt e mi fermo qui vedete in modo che vado a far combaciare questi due insieme e continuo vado qua vedete a fare questo vado qua e vado a mettermi in questo modo mi duplico questo e me lo sposto sempre qua al centro in modo che mi faccio questi due estremi continuo mettendo il cerchio qui continuo vedete e me lo vado a mettere qua ok ora mi seleziono tutto e vado a selezionarmi questo cerchio che è qui ora vado qua a premere invio da tastiera vado qui nello strumento rotazione e vado a premere invio da tastiera e mi metto 180 vado a fare copia eccolo qua senza lasciare il mouse continuo e vado a mettere sopra al disegno vado a selezionarmi questo e cancello qui ok vado a fare oggetto e vado a fare blocca la selezione questo me lo blocco mi seleziono tutto quanto e vado su elaborazione tracciati se non avete elaborazione tracciate andate su finestra elaborazione tracciati e andiamo qui a mettere unifica ecco qua vedete poi andiamo qui nello strumento rettangolo e andiamo a crearci un fiocco andiamo a premere shift mi vado a premere qui il colore e poi vado nella guida colore mi vado a scegliere un colore vado con la freccia bianca qui vedete a ammorbidire gli angoli poi vado a prendermi sempre lo strumento rettangolo e mi creo un rettangolo in questo modo vado a mettermelo qua vado a fare questo oggetto ordina porta in primo piano e me lo vado a mettere qua prendo la freccia bianca e me lo stringo un po verso qua prendo la freccia bianca stessa cosa e faccio qua seleziono gli angoli premendo shift e vado vedete a farmi l'arrotondamento di questo mi vado ad allargare un po questo ok e duplico premendo shift e alt vado a ruotarlo in questo modo e me lo metto qua seleziono il tutto e vado ad allinearlo ok duplichiamo premendo alt e me lo vado a mettere qui questo qua e abbassiamo un po il colore vado ad abbassare un po i colori da qua ora seleziono questo e questo e vado a fare ordina porta in primo piano e qua vedete faccio questo duplico premendo shift e alt rifletti facciamo così lo facciamo uguale e ce lo portiamo prendo il pennello e vado a crearmi delle linee prendo questo e vado a mettermi la linea normale e qui vado a crearmi vedete le pieghette del fiocco e lo ruotiamo mi prendo questo duplico premendo shift e alt e vado a fare rifletti ecco qua vedete abbiamo creato il fiocco ora sempre prendendo di riferimento questo cerchio che abbiamo qua mi vado a prendere il pennello e vado a prendermi un giallo che qua vado a cercarmi il colore e vado a muovermi così cercando di fare tipo una ghirlanda più movimentata tipo dei fili ok ci selezioniamo adesso questi e questi e questi e vado qui a mettermi la linea dritta vado qua e vado a mettermi questo qui vedete do un po' di movimento così e me lo vado a spostare vediamo un movimento vado ad arrotondare un po' qua e vado vedete a modificare un po' la curva ok vado adesso adesso vado a fare sblocca e mi vado a togliere questo perché tanto a me questo cerchio non mi serve ruotiamo ruotiamo e andiamo a metterlo qua selezioniamo il tutto e facciamo tasto destro porta sotto ok adesso andiamo a metterci dei cerchietti mettiamoli pieni andiamo a cambiare il colore mettere un guida colori andiamo a metterci questo lo rimpiccioliamo vedete mettendo ok ora vado a premere lo strumento rettangolo e vado ad aggiungere un po' di stelline quindi vado su effetto distorce e trasforma effetto risucchio e gonfiamento e vado a creare questo premo ok lo rimpicciolisco e me lo metto qua vado a premere qua e lo facciamo un po' di giallo e qua vedete possiamo anche ruotarlo un pochettino ed ecco qua vedete abbiamo creato questa d'irlanda ce la spostiamo qui andiamo adesso a creare un albero di natale allora da alberello andiamo a prendere lo strumento poligono clicchiamo sul foglio e andiamo a mettere tre lati quindi ingrandiamo vado a prendere il contagocce e metto qua andiamo un pochettino ad arrotondare vedete gli angoli qui e premo alt e shift questo lo allarghiamo un pochettino premo alt e shift e ingrandisco questo ok andiamo a prendere lo strumento rettangolo e andiamo a creare la parte di sotto dell'albero quindi andiamo a mettere il marroncino e andiamo a selezionare il tutto e lo allineiamo duplichiamo un altro po' questo selezioniamo il tutto e andiamo su oggetto ordina porta in primo piano questo si può mettere un pochettino più su ok vedete abbiamo creato questo alberello adesso io prendo sempre lo strumento ellisse e vado a mettermi degli ellissi uno vicino all'altro facciamo command D selezioniamo il tutto e andiamo a unire prendo la freccia bianca e mi vado a cancellare solo la parte di sopra andiamo a mettere la traccia e qui vado a mettermi il bianco come traccia rimpicciolisco e vado a mettermi questo mettiamo uno spessore e qui vado a mettere questo andiamo a mettere un colore un po' più scuro un po' più scuro eccolo qua duplichiamo vedete premendo alt e me lo allargo allo stesso tempo duplico e me lo allargo allo stesso tempo ora andiamo sempre a prendere il pennello e andiamo a mettere come riempimento il bianco e vado a crearmi un po' di neve a mano libera bianco però ok andiamo a mettere questo e rimpiccioliamo qua ora che ho fatto le palline qua io vado a mettermi tasto destro ordina porta in primo piano vado a mettermi un po' di palline e un po' di stelline facciamo che tutto quanto ordina porta sotto così ed ecco qua andiamo a creare prendiamo la freccia e questo lo andiamo a fare bianco e qui vado a mettermi la linea normale e qua ingrandiamo e questo lo mettiamo ed ecco qua abbiamo disegnato una ghirlanda e un alberello di natale spero che questo video vi possa piacere e noi ci vediamo al prossimo tutorial grazie e ciao a tutti grazie 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 a tutti